Italia 1 Nuovi scavi e scoperte sulla più grande biblioteca dell'antichità, quella di Alessandria d'Egitto. Le pietre di Palau, considerate dalle civiltà più remote, fonti di benessere. Una macchina fotografica cattura le presenze extra corporee in un castello italiano. Vicoforte in Piemonte, la più grande cupola ellittica del mondo. Questo e molto altro con Roberto Giacobbo a Freedom, lunedì in prima serata su Italia 1.